Il caso dei finanziamenti erargiti dalla Comune di Pesaro in favore delle due associazioni Opera Maestra e Stella Polare, che in soli due anni hanno ricevuto oltre 400 mila euro, arriva anche in Parlamento. A portarlo è l'On. Antonio Baldelli di Fratelli d'Italia, che pone una serie di interrogativi e repliche sulla questione. Dall'inchiesta giornalistica di queste settimane è stato scoperchiato un vasso di pandole, sono emerse delle situazioni che vanno assolutamente chiarite. Come si fa infatti a affidare oltre 400 mila euro di servizi e lavori a due associazioni culturali che credo non abbiano nemmeno i requisiti, non hanno dipendenti, non hanno DURC, soprattutto non hanno mai rendicontato i lavori svolte. Questo rende l'affidamento molto molto opaco, soprattutto se poi pensiamo che colui che era sindaco, quando questi fatti sono accaduti, oggi dovrebbe rappresentare l'Italia e anche le Marche e Pesaro in Europa. Questo ci dà molto da pensare. L'On. Baldelli poi si rivolge al sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, in risposta alle recenti dichiarazioni che accusano il governo di aver tagliato i fondi per le associazioni. Ho letto una delibera del neosindaco che dice di essere costretto a diminuire i finanziamenti delle manifestazioni della città di Pesaro a causa dei tagli del governo. Io invece vedo questa necessità per poter allontanare l'indagine del giornale che ha sollevato queste criticità, anche perché questa tempestività, se così vogliamo chiamarla, nell'assegnazione di questi fondi, di questi servizi, di questi lavori a due associazioni culturali, fanno sorgere molte domande imbarazzanti per l'amministrazione comunale e per chi ha compiuto queste scelte che richiedono una risposta immediata o richiedono un intervento di altre autorità. Infine la risposta anche al capogruppo comunale del Partito Democratico di Pesaro, Marco Perugini, che ha dichiarato di come non serva la commissione di inchiesta richiesta dal centrodestra, poiché esiste già la commissione controllo e garanzia. Questi fatti devono essere approfonditi non in una commissione di indagine generale ma in una commissione di indagine ad hoc e a questo punto mi chiedo cosa abbia da nascondere l'amministrazione comunale perché non voglia fare chiarezza su questi fatti che richiedono chiarezza perché un'amministrazione comunale deve essere al di sopra di ogni sospetto, in questo momento non lo è. Tenuto mio dovere informare l'Aula di tutto ciò, grazie signor Presidente. Grazie, onorevole.